La legge numero 29 approvata dal Consiglio regionale il 26 giugno scorso, che ha disposto la riperimetrazione della riserva naturale del Borsacchio, è norma a tutti gli effetti della Regione Abruzzo. Il 10 agosto, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa della legge dinanzi alla Corte Costituzionale. Ora, futuro e libertà nell'esprimere molta soddisfazione, anche dopo le numerose critiche, molte delle quali strumentali sulla illegittimità del testo normativo, spera che in tempi rapidi l'attuale amministrazione provveda a nominare l'ente di gestione e che venga approvato il tanto atteso PAN, interventi assolutamente necessari affinché l'area protetta non rimanga più ingessata dalle rigide norme di salvaguardia. Mi fa piacere il coronamento e la fine di questo che ha rappresentato uno dei lavori e degli impegni che ho fatto in Regione Abruzzo, altri impegni sull'edilizia e su altre leggi che abbiamo portato avanti. Però questo ha riguardato e impegnato molte cronache, sono state dette molte cose e mi sembra doveroso far sapere anche ai cittadini che la cosa è finita, è finita per il bene ed è finita anche come dicevamo noi. Quello che bisogna fare adesso è partire dal fatto che esiste una riserva, una riserva grande, importante, adesso va fatto il piano di assetto naturalistico, il piano che dovrà gestire la riserva e si potrebbe già partire con una realizzazione, per esempio la pista ciclabile e collegare definitivamente Roseto a Giulianova senza passare più sulla nazionale. Sarebbe una cosa molto bella questa su cui già iniziare a intervenire. Credo che il Comune di Roseto possa farlo e voglia farlo questo, quindi ora sta a loro, sta al Comune di Roseto iniziarsi a muoversi, a muovere e programmare quindi il PAN e far decollare quella riserva che già esiste ma non deve più starci sulla carta, come abbiamo visto dal 2005, le modifiche del 2007, sono passati anni e le cose non sono cambiate. Facciamo vivere la riserva naturale del Borsacchio che c'è in tutta la sua bellezza, abbiamo soltanto tolto alcune zone edificate, non ci sono speculazioni e niente di quello che era stato detto è il risultato vero, infatti ci hanno dato ragione.